Su invito del presidente dell'ente nazionale per il microcredito Mario Baccini, un uditorio internazionale di altissimo spessore si è riunito nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto per ascoltare il cardinale Mauro Gambetti, vicario del Papa per la città del Vaticano, arciprete della Basilica, presidente della fabbrica di San Pietro e della fondazione Fratelli Tutti, ispirata all'enciclica del Papa di cui si propone di diffondere il messaggio, soprattutto tra i giovani. Sorella Economia, il profilo sociale dell'enciclica Fratelli Tutti, appunto, il tema dell'incontro, introdotto dal giornalista e docente di geopolitica vaticana Piero Schiavazzi, nel corso del quale è stata evidenziata la necessità, resa ancora più pressante dall'attuale congiuntura di guerra e di crisi economica internazionale, di un'economia solidale e allo stesso tempo sostenibile, attraverso la valorizzazione degli strumenti propri dell'economia sociale di mercato, tra cui lo stesso Santo Padre Francesco ha citato il microcredito e la microfinanza, che consentono a chi non è bancabile per la finanza tradizionale di accedere al credito e trasformare così la propria condizione. Direi che anche questa è un'evoluzione, passare a una forma evoluta di economia del dono, della gratuità in cui la solidarietà sta alla base anche della, in fin di conto, della convivenza civica. Se la ritroviamo, la convivenza pacifica, anche se siamo disposti a rimettere in circolo anche un po' del nostro, insomma, delle nostre risorse e quindi passare a un'economia, è una finanza di questo genere solidale e improntata al dono da moltiplicare, da distribuire e moltiplicare. L'economia sociale è l'alternativa dell'automatismo del mercato, perché il mercato ha come unico obiettivo il profitto, l'economia sociale ha come obiettivo la soddisfazione dei bisogni della persona, si realizza con la condivisione di politiche sostenibili, con la condivisione e il sostegno anche a tutte quelle fasce che rischiano di rimanere indietro, quelle fasce di persone, di aziende, di imprese, ecco noi stiamo facendo questo. È una delle più belle iniziative in cui la morale e l'etica cattolica incontrano la finanza e la finanza quella bella, quella inclusiva, quella del microcredito.